Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto in zona San Vito, by night, precisamente in via del Faro, angolo dalle parti di via Aragoste. Una situazione incredibile, alcuni mesi fa la Telecom ha operato dei lavori, sembra per realizzare, per impiantare la fibra, il manto stradale rifatto circa un due anni fa è stato squartato e poi non è stato più ripristinato. Vedremo dalle immagini appunto il cemento gettato lì senza asfalto e quant'altro. Ne parliamo con Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo. Insomma, le ditte fanno i comodi propri e il comune dorme. Ebbene sì, questa è la seconda volta, abbiamo parlato qualche mese fa con le ditte dell'Acquedotto, oggi con le ditte della Telecom. Abbiamo appunto notato che il comune, sì, dà le autorizzazioni a rompere manti stradali, costruiti, rifatti pochi anni fa con i soldi del contribuente, ma non sorveglia e non veglia affinché le stesse ditte ripristinano lo stato dei luoghi, almeno insomma per quello che è possibile. L'assurdo è che non è stata neanche fatta, come si suol dire, la linguetta di asfalto, come in altri casi avveniva seppur penosamente. Qui si è rotto il manto stradale e non ci si è degnati di riasfaltare, è rimasto il cemento to cure. È rimasto il cemento che tra l'altro ha provocato anche delle buche pericolose per i motociclisti, per i ciclisti che noi qui a San Vito abbiamo, ma anche per le automobili. Il problema è che comunque il manto stradale è stato rifatto nuovo da pochissimo con i soldi del contribuente, ma il contribuente si trova ad avere già una strada disastrata. Assessore Lonocce, vice sindaco, nonché assessore ai lavori pubblici, quando ci diamo una bella mossa, la campagna elettorale sua si sta avvicinando, non si fa una bella figura, non ci fa lei certamente una bella figura se le ditte fanno i comodacci propri. E il comune, e noi cittadini contribuenti, intanto paghiamo per vedere squartati, per vedere prima asfaltati e poi squartati i manti stradali. Mediti, vice sindaco Lonocce, ci mediti parecchio.